Rosario, domenica mattina c'è stata una protesta, un sit-in più che una protesta da parte dei cittadini che abitano a Marinella. Perché? Allora, Giuseppe, io vado a Marinella dall'85, sono cresciuto lì e noi utilizzavamo una spiaggia dove il Comune ha fatto una scalinata di cento e più gradini che poi ci permetteva l'accesso alla spiaggia vera e propria passando da un campeggio che da alcuni anni è sotto sequestro. Adesso pare che questo campeggio sia stato dato in custodia o acquisito da un imprenditore che ha già un altro campeggio e in questi giorni, alcuni giorni fa, ha provveduto a chiudere questo accesso alla spiaggia e quindi non abbiamo più modo di raggiungere in modo sicuro questa spiaggia se non passando tramite degli scogli che diventa molto pericoloso per anziani, insomma, bambini, eccetera. Che cosa è servito questo sit-in? Noi cittadini di Marinella ci siamo organizzati tramite un gruppo WhatsApp creato da una ragazza pure che è all'abitazione lì a Marinella e abbiamo incontrato ieri mattina nel posto, nel luogo per far vedere appunto il luogo, un avvocato, un avvocato d'isola di Caporizzuto che ha cercato di capire la situazione per vedere cosa possiamo fare perché, come tutti sanno, la spiaggia è pubblica, l'accesso alla battiglia possono farlo tutti. Certo, se anche di questo tratto di spiaggia l'imprenditore chiederà la concessione non si ci può poi sostare, però al momento non c'è concessione nel tratto che utilizzavamo e quindi non si capisce. Cioè noi questi, fine agosto, ormai è finito, anche settembre, poi a Marinella si potrebbe andare a mare anche ad ottobre, come possiamo fare per raggiungere la spiaggia perché siamo stati tagliati fuori. Quindi voi chiedete di poter avere il passaggio per scendere sulla spiaggia. Sì, la possibilità di passare tramite la parte finale, diciamo, proprio quasi attaccata al mare di questo campeggio e raggiungere la spiaggia vera e propria. Non è che si sa che facciamo danni o entriamo nel campeggio, solo l'accesso alla spiaggia.